Antonello Stigliano, l'avvocato Antonello Stigliano, consigliere comunale a Palazzo di Città per il Partito Democratico, punto di riferimento dell'intera opposizione. Antonello, una storia che sta caratterizzando l'opinione pubblica qui nella nostra città per quanto riguarda i rifiuti. Leggo testualmente da un'agenzia giornalistica, Gara Rifiuti, scongiurato in ritiro del bando. Perché il sindaco Forte si sta così notevolmente dimenando per un argomento che ha caratterizzato la vita di questa città per 30 anni, lunghissimi anni, ben 30 anni di vita a carattere politico, amministrativo, sempre e comunque con un'influenza così, io ritengo, devastante. Senti adesso, la domanda che mi poni non ha una soluzione, non ha una risposta semplice, quantomeno non la posso dare io, la dovrebbe dare il sindaco Forte, al quale noi come Partito Democratico abbiamo con un comunicato stampa praticamente posto la stessa domanda. Per quale ragione? Tanti giri di Walzer sulla gara di appalto per lo smaltimento dei rifiuti che in questo momento si sta tenendo a Roma nella Consip, ormai sembra ci manchi solo l'ufficialità e la stipula del contratto. E invece all'ultimo noi assistiamo a un ennesimo giro di Walzer, un colpo di coda della maggioranza del sindaco Forte in persona che sembrava voler lanciare una minigara da 18 mesi. Abbiamo fatto un comunicato stampa e in questi giorni i fatti ci hanno dato ragione. Il sindaco Valente, il presidente dell'Aro, il sindaco di Gravina, ha confermato che il comune di Altamura ha fatto, devo dire purtroppo, una pietosa retromarche perché dopo aver a tutto volume manifestato la volontà di fare questa minigara, di chiedere la sospensione della gara principale, oggi invece il comune di Altamura è costretto a riallinearsi a quella che era la giusta e legittima linea dei sindaci dell'Aro. Antonello, quello che avrebbe voluto fare il sindaco però lo ha fatto un altro concittadino, spendendo anche più di 3.000 euro per quanto riguarda un ricorso al Tar. È vero, caro Alessio, che come si dice dove c'è gusto non c'è per denso, non c'è per denso, però mi pare che tra l'altro questo cittadino, che è un caro amico, Nicola Clemente, facciamo i miei cognomi, sia anche un consigliere del sindaco, per cui la domanda è... Quindi un uomo di fiducia? Si deve pensare che sia un uomo di fiducia, altrimenti io non ho come consigliere, come mio consigliere, una persona della quale non ho fiducia. Per cui il dubbio che ci viene è, ma è stato Nicola Clemente a firmarlo e a volerlo fare o è stato Nicola Clemente solo a firmarlo? Questo è un dubbio che noi riproponiamo, come dire, pari passo al sindaco e a Nicola Clemente che ha firmato questo ricorso. Lo scopriremo molto presto. Nelle prossime puntate.